Dall'organizzazione di concerti all'allestimento di una cena, il tutto per raccogliere fondi a sostegno dei progetti della Onlus Missione Africa. Marina Dante, Ana Maria Scavo e Ida Rania Epifano dell'Associazione Mirarte hanno dunque vestito i panni da chef e insieme ai cuochi professionisti del ristorante Kikibio di Polignano a Mare hanno cucinato un menù davvero con i fiocchi per la cena di solidarietà. L'Associazione Mirarte nella persona come direttore artistico, io quindi Marina Dante e poi di tutto lo staff che in cucina praticamente preparerà dei piatti per questa cena insieme allo staff del Kikibio che naturalmente ci aiuta tantissimo e che ringraziamo moltissimo. L'intero ricavato è stato destinato a Missione Africa che già grazie ai concerti organizzati da Mirarte negli ultimi anni ha potuto realizzare diversi progetti di solidarietà. Tutte queste iniziative servono a dare una mano a chi è impegnato sul campo in Africa per aiutare nel caso specifico le popolazioni di alcuni villaggi del Kenya, di etnia Samburu e Turkana. Io ho avuto la fortuna di andare sul posto due anni fa e quindi da quel momento sono impegnato per promuovere, per favorire queste occasioni.